Ciao, in questo video ti voglio insegnare come fare a creare una lista di distribuzione su WhatsApp. Una cosa facilissima, che pure tanti ancora ignorano e creano gruppi a sproposito, perché il gruppo serve per poter dialogare, conversare, parlare e rispondersi tra un certo numero di persone. Ma se il mio obiettivo è quello di mandare un messaggio, il mio messaggio, a tante persone contemporaneamente, senza però necessità che loro tra di loro si parlino, devo creare una lista di distribuzione. Una lista broadcast. In questo modo tutti riceveranno il mio messaggio, ma non riceveranno le risposte di tutte le altre persone, perché come tu ben sai, questi gruppi dopo un po' diventano un gran casino, perché tutti quanti rispondono, non si capisce più di cosa si stia parlando. Invece, per poter raggiungere tutti i destinatari con il nostro messaggio, dobbiamo creare appunto la lista. Andiamo in WhatsApp, così ti faccio vedere quanto è semplice e veloce. Eccolo qua. Allora, WhatsApp, questo è il mio WhatsApp. In alto a destra, tre puntini, nuovo gruppo e sotto, nuovo broadcast. Io creo la mia lista broadcast. Qua ci posso inserire tutti quanti i destinatari che voglio. Adesso te li scorro velocemente per non farti vedere i cacchi miei. E a questo punto creo una lista broadcast. Ti faccio vedere per esempio questa qua che ho creato. Si chiama Maestro Libero, è la mia lista. Io mando quasi quotidianamente dei messaggi che arrivano a centinaia di persone, ma gli arrivano come messaggi privati, messaggi individuali, come se io avessi scritto a loro uno per uno personalmente. Ovviamente non scrivo uno per uno, perché sono centinaia. Scrivo una volta sola, il messaggio viene recapitato a tutti, e poi ciascuno di loro, se risponde al messaggio, risponde a me personalmente, quindi in una conversazione privata. Quindi te lo mostro nuovamente. In alto a destra, tre puntini, nuovo broadcast. Infiliamoci una persona qualsiasi, Alessandro Cont. Andiamo avanti. Ops, adesso ecco. Almeno due contatti. Ci metto pure Alberto dentro, dai. Ecco, ho creato una lista broadcast. Se clicco in alto su due destinatari, posso modificare il nome. La chiamerò lista prova. Ok. Posso cambiare l'immagine. Se clicco, dov'è che cambia l'immagine? Vediamo un po'. Lista prova, ok. Vabbè, non ci riesco a cambiare l'immagine, non importa. In alto a destra posso aggiungere altre persone. E quindi aggiungo altri partecipanti. Che ne so, aggiungiamo uno a caso. Alfredo, vai. E così ci sono questi tre destinatari. Io adesso, se vado nella lista e scrivo un messaggio, questo messaggio arriva a tutte queste persone nella lista, come un messaggio privato individuale. Ok? Spero che tu abbia capito tutto. Comunque prendi il telefono, fai una prova. Ti consiglio di provare magari inserendo tu madre, tu nonna, tu sorella, persone di famiglia che si prestino a fare da cavi a questo test. E vedrai che in tante situazioni è molto meglio del gruppo. Per esempio, se devi mandare un messaggio ai genitori, ai rappresentanti, è molto meglio fare una lista di distribuzione piuttosto che un gruppo. Bene, con questo video ti saluto. Fai il tuo esperimento di lista. Fammi sapere com'è andato. Ciao.